Grazie a tutti E allora tuta quella che è arrivata ieri ragazze con la bretellina che si regola come se fosse un reggiseno da coordinare o con una camicetta come ho fatto io oggi ho deciso di mettere quella a fantasia rigata quella col nodo predisposta che mi va a coprire le spalle oppure da mettere con un toppino a fascia perché un pochino ragazze rimane aperta essendo un effetto salopet taglia unica morbidissima il tessuto è di cotone leggero leggero ma bene Bello coprente da notare che il bianco non mi traspare ve la faccio vedere con tutte quante loro le nostre clienti che girano perché ragazze questa mattina già hanno venduto a una fucsia come avevo fatto vedere ieri nelle stavis c'era bianca e bianca me la sono presa io ma la stiamo già rimandando in ordine però ce l'abbiamo disponibile nella colorazione camera nella colorazione nera guardate quanto è bella pure questa verde acqua ragazze guarda come risalta la bronzatura guarda che bello che colore bello compatto taglia unica come vi stavo dicendo adesso vado a togliere la camicina e vi faccio vedere come sta questa tuta col cavallo calato che sono andata a risvoltare che ha le tasche a destra a sinistra che rimane bella aperta nella parte di dietro infatti ci ho messo reggiseno color carne ma ragazze alla fine sono andata a coordinarci la camicina perché mi sento più sicura e più comoda e poi comunque gli da quella e quel colore veramente sì è jeans quello shorts che stai vedendo sì sì è lo shorts di jeans allora camicina 13 14 camicina che abbiamo disponibile eccola qui taglia unica mezza manica molto morbida ragazze veste benissimo allora io adesso vi lascio perché devo andare a fare cassa perché c'è Paola che sta girando per il negozio veloce veloce che non vuole essere ripresa ma mi ha detto vai vai sì e quindi rgn lovers su instagram facebook youtube tiktok rgn lovers che c'è sempre sì ciao ecco e allora io vado da manuale a tutto ci vediamo sabato mattina aperti pomeriggio aperti io vi aspetto ragazze ciao ragazze buongiorno e buon lunedì 12 di agosto sono qui per farvi vedere velocissima il mio look of the day di oggi fresco comodo pratico perfetto per questa giornata che già da questa mattina si presenta bella torrida dall'aria un po' bontonna molto anni 50 ragazze mi è piaciuta tantissimo ma soprattutto la freschezza la praticità la vestibilità di questa gonna di lino ve lo devo dire top allora gonna di lino in taglia unica lunga fin sotto al ginocchio quindi la lunghetta morbida con l'effetto un po' gode come si suol dire ovvero che va a svasarsi che rimane morbida con delle piccole piegoline qui nella parte davanti anche perché abbiamo l'elastico in vita che la rende si taglia unica ma soprattutto comodissima e pratica da poter mettere a vita alta vita un po' più bassa ragazze veramente molto molto oltre alla bellezza di questa gonna in lino il fatto che si lino quindi tessuto fresco e pratico e comodo per quest'estate ma soprattutto non trasparente ragazze non mi venite a dire che trasparente perché non si vede nulla vedete bene sto aprendo le gambe facendo un sacco di movimenti ma non si vede assolutamente niente per quanto riguarda il sopra beh appena l'ho visto me ne sono innamorata l'abbiamo scaricati e ci sono arrivati con l'ultimo scarico non mi ricordo che era giovedì venerdì boh vabbè comunque sto parlando del top in raso quello che ha le spalline in effetto catenella dorata taglia unica è la versione eccolo qui scolla v davanti dietro come potete ben vedere animale stondato quindi delizioso anche perché lo scolla v si c'è ma non è eccessivo molto molto morbido stavo dicendo quindi perfetto veramente per quest'estate anche per quanto riguarda la vestibilità incredibile allora questo modellino qui ce l'abbiamo disponibile nella versione champagne come lo sto indossando io ce l'abbiamo nella versione bianca nero e poi c'è verde militare e c'è in blu e c'è una moltitudine di colori che adesso non mi ricordo anche perché abbiamo sistemato il negozio a colori come ben sapete poi a lunedì mattino appena è riaperto quindi ragazzi i colori non me li ricordo però sono veramente tantissimi taglia unica come vi stavo dicendo la lunghezza è quella giusta aspetta e anche la taglia è quella giusta vediamo se riesco a tirarlo fuori eccolo qui la lunghezza se non lo abbinate a una gonne quindi non volete tenerlo all'interno e andarla a sblusare lo potete lasciare fuori rimane morbido su tutta la linea a partire dal giro del seno anche per questa che è la linea un pochino più piccola perché poi dopo vi farà anzi ve la faccio vedere subito abbiamo sempre un top in raso con una vestibilità ancora più ampia quindi perfetto per chi ha il seno grande comunque questo qui già fino a una quarta abbondante di seno sta bene per quanto riguarda la vestibilità di questa linea qui fino a una 48 tranquillamente perché vedete molto molto morbido e mi copre fino a metà ciappetto quindi sarebbe perfetto volendo da abbinare anche a un pantalone stretto a un leggings non soltanto messo all'interno e andata a sblusare per quanto riguarda la vestibilità della versione un pochino più ampia quella che ha sempre le bretellina gioiello ma questa volta con gli strassetti ragazzi vi dico che questo fino a una 50 52 e anche fino a una quinta ma anche una sesta abbondante di seno veste benissimo e anche della versione a taglia grande abbiamo l'assortimento per quanto riguarda i colori stavo dicendo allora ragazze a questo punto io mi vado a ripristinare l'outfit mezzo bene come avevo fatto prima vi do appuntamento qui presso il nostro punto vendita fino all'ora di pranzo per quanto riguarda questa mattina già siamo aperti ovviamente e oggi pomeriggio saremo di nuovo qui ad aspettarvi con il meno 20% di sconto su tutto anche su questi articoli che ci sono arrivati con l'ultimo scarico e soprattutto con un sacco di articoli e anzi di outfit in promo a soli 20 euro e ne ho caricati altri 3 o 4 tra ieri e l'altro ieri quindi andateli a vedere sulle nostre pagine perché sono molto convenienti e perfetti da portare in vacanza rgn lovers c'è dai su instagram facebook youtube e tiktok da manuela è tutto oggi ancora mi devo riprendere un altro caffè e sono pronta ragazze io vi aspetto qui al negozio sbrigatevi ciao